Signore, facciamo festa, facciamo festa, alleluia, alleluia. Tu ci hai raccolti davanti all'altare, Signore, per sentir la Tua parola. Facciamo festa, facciamo festa, questo è il giorno del Signore. Facciamo festa, facciamo festa, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Il canto ci invita a far festa perché è il giorno del Signore, cioè il giorno in cui ci incontriamo con Lui, vivo, presente, risorto, in mezzo a noi. È Lui il motivo della nostra festa. Allora ci presentiamo davanti a Lui con le nostre fragilità, le nostre debolezze, confidando sempre nella Sua misericordia, che è più grande del nostro cuore. Con umiltà allora confessiamo i nostri peccati. Signore, nostra pace, Tu via che riconduce al Padre. Cristo, nostra Pasqua, Tu, verità che illumina i popoli. Signore, nostra vita, Tu, amore che rinnova il mondo. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vita vera, confermaci nel Tuo Spirito, perché amandoci gli uni gli altri, diventiamo primizie di un'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli Apostoli, e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore, che le aveva parlato, e, come in Damasco, aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poteva stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea Scioglierò i miei voti davanti ai Suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea Ricorderanno e torneranno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a tre si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea Ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà, diranno ecco l'opera del Signore. A te la mia lode, Signore, nella grande Assemblea Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è il più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci riprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. e Dio in Dio Rimanete in me e io in voi dice il Signore Chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Io sono la vita vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimarrete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. L'Evangelista Giovanni, a differenza degli altri evangelisti, non riporta le parabole di Gesù, ma usa dei simboli, dei segni, per rivelare Cristo se stesso. Ricordato domenica scorsa, «Io sono il buon pastore». Poi dirà ancora, «Io sono la luce del mondo. Io sono il pane della vita. Io, io sono. E oggi io sono la vera vite». L'immagine della vita era molto cara al popolo di Israele. L'Antico Testamento ha delle pagine molto belle, che parla della vite, che è il popolo di Dio. «Ho piantato la mia vite, l'ho coltivata, ho costruito una torre. Profeta Isaia, che cosa dovevo fare ancora per il mio popolo, che non ho fatto?» «M'aspettavo frutti maturi, ma la mia vite produsse uva selvatica». E per cui allora manda lui la vite vera, che è suo figlio. Lui dirà «Io sono la vite vera». E per portare frutto bisogna rimanere uniti a lui, come i tralci uniti alla vite. Capite come quando Gesù predicava, avendo davanti questi segni, questi simboli, la gente riusciva a comprendere. In che contesto Gesù fa questo discorso? È l'ultimo discorso che Gesù fa prima della sua passione morte e risurrezione. Prima dell'ultima cena. Gesù vuol preparare il cuore dei discepoli al distacco doloroso con lui. Vuol colmare quasi quel vuoto che si creerà, che poi è avvenuto. Pensiamo ai due di Emmaus, pensiamo al dramma della morte di Cristo in croce. Noi speravamo che fosse lui. Subentra il vuoto, la paura, non c'è più un punto di riferimento. Quante volte anche nella nostra vita può succedere questo? Per la morte magari di una persona cara, per un fallimento umano. Il rischio è proprio quello di cadere nel vuoto. Ecco, il Signore ci assicura che lui è presente e che quel momento è come una potatura. Crea sofferenza, ma se rimani in lui porta frutto. Siamo dentro questo disegno di amore. Allora siamo sempre con lui. E' un'esortazione ed è un'invocazione che vogliamo davvero accogliere. Perché è facile staccarsi. E il Signore dice che chi si stacca dalla vite è destinato a morire, a seccare. Chi invece rimane unito porterà frutto. Certo, la potatura è dolorosa. Eppure, nel cammino della vita spirituale, come è necessario? E' che ci lasciamo, perché noi non abbiamo sempre il coraggio di tagliare tutte quelle cose che ci impediscono di essere discepoli veri del Signore. Noi difficilmente ci lasciamo potare. Poi ci pensa la vita a volte. E il Signore Gesù anche. E il contadino che coltiva la vite sa benissimo che più la potatura è vicina al tronco, e più porterà frutto. E chi non è esperto vede solo qualcosa di secco. Diciamo, come è possibile? E quando fa la potatura, dal ramo esce la linfa, che sono quelle goccioline molto splendenti della luce del sole. E il contadino c'è un detto molto bello che dice «La vite piange». La vite piange per la potatura, come avviene anche per noi, certe potature. Ma poi, in primavera, a marzo, su quella ferita dove è stata fatta l'incisione, oppure è stato troncato, esce una gocciolina, ancora la linfa. E il detto del contadino è diverso. Dice «La vite va in amore». È significativo questo. Quella goccia è il segno di un frutto che porterà la vite, un frutto abbondante, che è frutto dell'amore. Ecco, avviene così anche nella nostra vita spirituale, fratelli e sorelle. Non dobbiamo vedere nei momenti di buio il fallimento. Ma ciò che per noi, diciamo, è finito, è il fallimento, per Gesù inizia un'opera nuova. È stato così anche per l'Apostolo Paolo. Avete sentito gli atti degli Apostoli? In queste domeniche abbiamo letto sempre le vicende che riguardavano Pietro, con la franchezza di Pietro, l'annuncio di Pietro. Oggi l'esperienza di Paolo. Paolo, sulla via di Damasco, ha avuto incontro con Cristo, che l'ha ribaltato da cavallo. Quella luce che lo ha folgorato, è rimasto anche cieco. È iniziato un cammino di vita nuova, una vita completamente diversa, da persecutore dei cristiani ad apostolo dei gentili. Una vita completamente nuova. Ma una vita sofferta, per le incomprensioni, più volte lapidato, più volte condannato a morte. Ebbene, Paolo inizia la sua avventura di apostolo tra i pagani. Dopo tre anni sente il bisogno di andare a Gerusalemme, a confrontarsi con gli apostoli. Gerusalemme, la notizia di Paolo era già arrivata. Ma i cristiani lo guardavano con molta diffidenza. Tanto è vero che quando arriva a Gerusalemme, non era ben accolto. I cristiani tenevano, perché conoscevano la sua vita di prima. E quindi non si fidavano. E' stato necessario la figura di Barnaba, avete sentito, che fa da garante alla comunità di Gerusalemme. Ma, dall'altra parte, i giudei lo vogliono a morte, perché è un traditore. Ha tradito la sua religione. E quindi si trova in una vita difficile. Ma come? Allora, dove sono i frutti buoni? Si viene cacciato via. Tanto è vero che i cristiani lo accompagnano alla nave e gli dicono, vai via, perché qui rischi la morte. E inizierà l'altro viaggio missionario. Però, quello che può chiamarsi un fallimento, diventa, ecco, una vita piena di frutti. Paolo annunciava la parola e dice gli Atti degli Apostoli, è interessante questa annotazione, è che la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea, la Sardegna. Si consolidava e il conforto dello Spirito Santo, e pieno del conforto del Spirito Santo, cresceva di numero. Ecco i frutti. Del resto, fratelli e sorelle, la croce di Cristo, umanamente parlando, è un fallimento. Eppure da quella croce viene la salvezza del mondo. Tanto è vero che la liturgia ci ha fatto pregare, dopo la prima lettura, il Salmo, è il Salmo 22. Quello che Gesù sulla croce inizierà a recitare, a pregare, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come termina? L'abbiamo sentito i versetti ultimi del Salmo. Ma io vivrò per lui. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore. Ecco per chi confida nel Signore, per chi rimane unito a Lui. Ecco, annunceranno, e al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore. Paolo rimane un esempio per tutti, per tutta la Chiesa, ma non solo. Tanti santi, tanti nostri fratelli, che pur in mezzo a tante difficoltà della vita cristiana, hanno saputo mantenere ferma la loro fede. Sono rimasti uniti a Cristo. È vera quella parola. Senza di me non potete fare nulla. Ma quante cose facciamo? Non è vero, Signore? Sì, ma le fate senza di me e quindi sono destinate a scomparire con voi. Se invece le fate con me, sostenute dal mio amore, sono opere di amore, di carità, che durano in eterno. con me. Grazie a tutti. Nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Dio Padre, divino agricoltore, presentiamo le nostre suppliche, perché la terra sia dissetata dal vino nuovo della Pasqua di Gesù. Diciamo insieme, Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Chiesa e tutte le comunità cristiane, si lasciano lavorare dalla grazia, per essere potate, fortificate e rinnovate, manifestandosi al mondo quale credibile testimonianza della Pasqua che rinnova ogni cosa. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché nel mondo intero sia garantita la giustizia e venga edificata la pace. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per le vittime dell'egoismo, dell'ingiustizia e della violenza, conoscano la Tua paternità, affinché nessuno si senta orfano e solo nel suo dolore. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per gli uomini e le donne, che in molti modi si mettono a servizio degli altri, per confortare, portare pace, ridare fiducia e gusto di vivere. Trovino collaborazione e sostegno. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per il piccolo Gabriele, che oggi con il battesimo sarà innestato in Cristo, la vera vite, perché rimanga unito a Lui e porti buoni frutti. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. O Padre, che sei più grande del nostro cuore, donaci quanto ti chiediamo, e per amore del Tuo Figlio aggiungi quanto non osiamo sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen. All'offertorio cantiamo insieme, accogli Padre Buono sul foglietto. Ti lodiamo, o Signore, perché ti offri a noi, e per questi doni tuoi preziosi, benedetto sei, Signore. Ecco il pane, frutto della Tua bontà. Ecco il vino, fonte della Tua salvezza. Accogli, Padre Buono, questo pane e questo vino, perché oggi diventeranno corpo e sangue di Gesù. Ti lodiamo, o Signore, perché ti offri a noi, e per questi doni tuoi preziosi, benedetto sei, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della Tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la Tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato, offrendo il Suo corpo sulla croce diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni dell'acqua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E Ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la Tua lode e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Se dimoriamo in Dio, se rimaniamo uniti a Gesù, avvertiamo di essere parte viva di una storia di salvezza, di un disegno di amore, di giustizia e di pace. Per questo eleviamo al Padre la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio Grazie, grazie. 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 Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Grazie. 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 Mare della vita, sei tu Gesù, vino di salvezza tu offri a noi questa comunione con te, Signore, Chiesa viva ci farà. Invitati alla Tua festa, noi formiamo un solo corpo, vero cibo è la parola che noi tutti unirà. pane della vita, pane della vita sei tu Gesù, vino di salvezza tu offri a noi questa comunione con te, Signore, Chiesa viva ci farà. Invitati alla Tua cena, celebriamo la Tua Pasqua, celebriamo la Tua Pasqua, il Tuo corpo e il Tuo sangue, tu, Signore, donerai. pane della vita sei tu Gesù, vino di salvezza tu offri a noi questa comunione con te, con te, Signore, Chiesa viva ci farà. Invitati alla Tua mensa, tu ci nutri col tuo pane, tu, Signore, per amore nuova vita ci offrirai. pane della vita sei tu Gesù, vino di salvezza tu offri a noi questa comunione con te, Signore, Chiesa viva ci farà. Invitati al Tuo banchetto col Tuo vino ci rinnovi, tu, Signore, in eterno gioia immensa ci darai. pane della vita sei tu Gesù, vino di salvezza tu offri a noi questa comunione con te, Signore, Chiesa viva ci farà. Chiesa viva ci farà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preghiamo. Assisti con bontà il Tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, Donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive regna nei secoli dei secoli. Amo. Mercoledì inizia il mese di maggio, il mese dedicato a Maria, alla sera alle 21, tutte le sere, qui in chiesa alla preghiera del Santo Rosario, ad eccezione della Domenica, dove reciteremo il Rosario alla Madonnina. L'appuntamento è alle 20.45 in piazza 25 Aprile. Venerdì 3 maggio, alla sera, faremo il pellegrinaggio alla Certosa di Pavia, al Santuario della Madonna delle Grazie. Inizia la celebrazione alle 20.45, quindi vi invito a partecipare il Rosario, poi ci sarà la Messa celebrata dal nostro Vescovo con i sacerdoti del Vicariato. Ed è la vigilia della festa della Madonna delle Grazie, venerata proprio lì alla nostra Certosa di Pavia, quindi venerdì sera alle 20.45. Ricordo inoltre il pellegrinaggio di lunedì 6 maggio a Caravaggio. ci sono ancora posti disponibili chi è intenzionato di all'adesione in questi giorni in parrocchia. il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti. Cristo è risorto veramente, alleluia, Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Morte dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. Se sulla croce io morirò insieme a Lui, poi insieme a Lui risorgerò. Cristo è risorto veramente, alleluia, Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Cristo Gesù, Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore del Signore della vita. Iscriviti in questo cuore dell'Isolo